Pensando alla parola crescita mi viene in mente una frase che amo che è di Gramellini che sostiene che per fare un passo avanti bisogna perdere l'equilibrio per un attimo, quindi per me crescita è una momentanea perdita di equilibrio per provare a fare qualcosa di più e quindi è uscire fuori dalla zona di comfort ma per avere di fatto uno sviluppo personale e professionale importante che quindi ci avvicina al successo, intendendo per successo la felicità personale.